Le informazioni che oggi esistono, che ci vengono propinate dai mass media, dai social network, da tutte le fonti di informazione che arrivano alla nostra mente, non fanno altro che intasare il canale attraverso cui la nostra parte più autentica si può trasmettere. L'anima parla attraverso la mente, questo è un fatto ormai ripetuto in questi documenti e la qualità del discernimento, cioè la qualità interiore della nostra psiche di comprendere quello che è giusto da ciò che non è, non ha senso tenere dentro di sé, è una qualità importante da coltivare e sviluppare. Contemporaneamente però accade che, ripeto, la quantità di informazioni che oggi esiste, che ci viene propinata, è molta. E quindi sviluppare la capacità da una parte di discernere quello che è importante conoscere da ciò che è futile, da ciò che è di troppo. È fondamentale per mantenere quieta la nostra parte mentale e la nostra parte emotiva, perché oggi la paura dilaga ancor più delle notizie. dall'altra parte si deve sviluppare, soprattutto oggi, la capacità di sentire dentro di sé qual è la verità. perché di verità ne è pieno il mondo, ok? Ci sono esperti che parlano di determinati argomenti che ci propinano la loro visione delle cose, la loro visione da qui al futuro. Ma come facciamo a sapere se quella persona, se quell'esperto, se quello scienziato, quel filosofo dice realmente la verità? Non c'è qualcosa all'esterno che può provare la fattibilità, la realtà di un concetto espresso. Perché soltanto la capacità di sentire dentro di sé la verità può far sì che quella all'esterno sia per noi una realtà degna di essere ed entrare a far parte della nostra percezione delle idee, percezione di verità e di realtà che ci circonda. Quindi da un lato il discernimento, il comprendere che cosa è giusto e da cosa non è giusto. E dall'altra parte la capacità di sentire. Quando qualcuno di fronte a noi ha il coraggio di parlarci, di parlarci col cuore, di esprimere una realtà che è per noi vera, allora in quel momento lì dentro di noi si accende una forma di attenzione che generalmente non conosciamo. Quel rapimento attraverso cui ascoltiamo una persona che magari per un istante sta parlando al nostro cuore. Allora lì la capacità da una parte del discernimento, dall'altra del sentire interiore, si sviluppa e si acuisce sempre di più. Oggi come non è mai importante far parte di questo nuovo modo di vedere le cose. Perché, ripeto, l'intasamento mediatico è così forte che è necessario sviluppare queste qualità. Grazie.